Il campionato italiano ritorna qui su questo rettilineo che era stato abbandonato dagli organizzatori da parecchi anni. Avevano scelto i bravissimi organizzatori della Pratese un arrivo nel centro, nel cuore di Prato. Massimo Podenzana che vive oggi la più bella giornata della sua vita ciclistica è campione d'Italia. Sorpresa, grandissima sorpresa ma merecchiatissima vittoria per Massimo Podenzana. che dopo essere stato un leader in campo dilettantistico, dopo essere stata una pedina fondamentale nella 100 km a squadra, ebbe il suo periodo di celebrità. Ecco, Bugno Cassani e Faresin nell'ordine.